e adesso da dove si riparte da dove ricominciamo dove eravamo rimasti che cosa è successo tutto questo tempo nel frattempo io sono imbarazzata ve lo dico sono tantissimi tantissimi tantissime settimane che non registro registro video guardate questo sarà il video dell'impappinamento e quando si riprende a registrare dopo tanto 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 tempo dal quale non lo si fa non è mai semplice perlomeno per me non lo è perché c'è sempre quella sorta di imbarazzo ci sta ragazzi per chi non è abituato a stare sotto i riflettori ci sta allora io direi di ripartiamo un attimo e sigla nessuna sigla hola hola a tutti i fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video come state mai come adesso ho voglia di sapere come state è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho registrato un mio video sono passati ben 78 giorni da quando ho pubblicato il mio ultimo video sul canale come state spero stiate tutti tutti davvero bene o che almeno la possiate raccontare io la posso raccontare anche questa volta ragazzi mi vedete leggermente diversa non è vero dall'ultima volta che ci siamo lasciati è passata un sacco di acqua sotto a questi ponti adesso vi racconterò ci tenevo a ritornare con un video chiacchiere prima di ripartire con le valanghe valanghe ragazzi di prodotti finiti di tutti i tipi tranne quelli del cibo non li ho messi da parte perché non avrei proprio avuto la possibilità di non avrei proprio avuto lo spazio per poterli tenere allora allora sono sudata agitata oggi è mi sembra 20 ottobre se non sbaglio e per la prima volta dopo 78 giorni riesco a riprendere in mano la ring light a trovare soprattutto ad avere la casa vuota lo dico piano perché maritozzo lavora la vivianozza aveva un diciottesimo di un suo compagno di classe riccardozzo è in libera uscita con la ragazza e per la prima volta sono a casa da sola dopo tutti questi giorni da quello che potete vedere c'è uno sfondo di sfondo c'è un muro più che altro e un nuovo divano ok e ci sono state un sacco di novità un sacco di cambiamenti chi mi segue da tanto tempo e chi mi seguiva mi ha seguita assolutamente anche nelle ultime negli ultimi mesi di programmazione di video sul canale si ricorderà che ogni tanto me ne uscivo con la frase vi dovrei parlare di un sacco di cose quando arriverà il momento opportuno ve ne parlerò c'è un sacco di acqua sotto i ponti c'è un sacco di carne al fuoco grandi cambiamenti bla 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 la zaretta che fa la smargiassa fuori di casa allora allora vabbè abbiamo cambiato casa abbiamo traslocato e forse qualcuno di voi l'aveva già intuito io ho il terrore di avere i denti sporchi perdonatemi ma questa sera va così ho voluto approfittare di questa serata per registrare perché altrimenti tra l'altro ho detto pure una bugia nel colors group di telegram no più che altro ho nascosto una verità avevo promesso che avrei registrato nel weekend precedente a questo ma poi come sempre sono stata affagocitata dalle cose da fare e non sono riuscita più a registrare e quindi ho tenuto in sospeso queste povere creature che aspettavano questo video sicuri che io avrei registrato quindi siccome so che parecchi guarderanno questo video forse non voglio essere presuntuosa ma sicuramente la sta grande maggioranza vi prego perdonatemi ho detto una bugia bianca o quantomeno ho taciuto la verità perché mi dispiaceva sembrava quasi che vi stessi prendendo in giro e ma non è assolutamente così mi sono proprio imbarazzata perché tante volte vi avevo promesso che avrei registrato e non ci sono riuscita i fuochi d'artificio sì in questa zona si festeggia tanto la zara che abbaia questo sarà il mood il nuovo mood dei miei video ve lo dico allora abituiamoci abituatevi io mi sono abituata perché la zaretta abbaia fuori perché appunto abbiamo cambiato casa gli ultimi allora abbiamo cambiato casa abbiamo affrontato questo trasloco e vi avevo promesso che vi avrei raccontato ovviamente a grosse linee non entrerò nei dettagli perché sono cose piuttosto personali e private e sinceramente le vorrei tenere per me ma ci tenevo tantissimo a raccontarvi un pochino che cosa sono stati questi ultimi mesi diciamo che il 2022 e il 2023 sono anni che hanno regalato alla famiglia colors un sacco di emozioni contrastanti chi di voi mi segue da tempo lo ripeto spesso questo perché ovviamente per una persona che apre per la prima volta questo video e non mi conosce ciao sono robbie life in colors e una mezza squinternata qua insomma che fa video sgangherati su questa piattaforma e benvenuti a tutti i nuovi iscritti a tutte le nuove iscritte che ovviamente sono pochi perché sono stata latitante e quindi i miei video sono finiti nel dimenticatoio sulla piattaforma di youtube ma chi se ne importa allora sono stati due anni un pochino decisamente impegnativi sotto tanti sotto tanti punti di vista e non starò qui a ripetere di nuovo il problema di salute che ho avuto tra l'altro sono in questi giorni sto facendo tutte le visite e di controlli oncologici in previsione della visita oncologica che ci sarà nei primi giorni di novembre e quindi sono anche un pochino insomma intenzione per questa cosa ma va bene insomma ci sta ci sta ragazzi io sono sempre positiva e propositiva e quindi credo insomma spero io sto bene accuso un po la stanchezza del periodo ma sto decisamente posso dire di stare bene in questo momento prima di tutto ecco vi aggiorno su questo sfacelo che vedete in tantissimi anni di canale non mi avete mai vista in queste condizioni pietose con i capelli ma ma ci tengo a dirlo perché qualora ci fosse qualcuno che non è nel colors group di telegram o che comunque apre il video per la prima volta dice mamma mia ma questa da dove è scappata da quale pilinica dei matti allora sono in una fase di transizione intanto ho tagliato tutto quello che potevo tagliare avrei voluto tagliare anche di più ma la parrucchiera si è rifiutata perché avevo bisogno di dare un taglionetto sapete quando ci troviamo nelle situazioni di transizione nelle situazioni di grandi cambiamenti la prima cosa che si fa perlomeno per noi donne è cambiare look e poi ti vede e poi devi rimanere con quello che c'avi prima che fai schifo e pietà lo so ragazzi questa è una fase di transizione come ben sapete io lotto con la ricrescita dei miei capelli bianchi da anni da tantissimi anni e mi sono notta le scatole vi dico la verità non ne posso più di stare ogni 15 barra 18 giorni a fare ritocco della tinta mi sono veramente rotta le scatole e quindi ho deciso di voler cambiare e cercando di arrivare al mio colore naturale ma ovviamente è controllato dalla parrucchiera per cui con riflessi con ciò che è più chiare ciò che più scure però vorrei di base tenere un grigio argento però io ce l'ho in mente quello che voglio quindi sono andata dalla parrucchiera e le ho detto guarda intanto tagliamo tutto e poi voglio fare questa cosa per cui voglio tornare le ho fatto vedere la fotografia di quello che avrei voluto lei mi ha guardato e mi ha detto no scordatelo perché visto il tuo percorso oncologico dello scorso anno se io vado a fare una decolorazione perché io volevo appunto un silver con delle ciocche magari nere volevo un chiaro scuro perché questa situazione che vedete qui davanti non è la stessa di dietro ne ho molti di più nella fascia qui davanti che dietro quindi lei mi ha detto guarda scordati che io ti faccio una decolorazione selvaggio scordati che io ti faccia una decolorazione selvaggia perché selvaggia dovrebbe essere perché rischi di rimanere pelata i capelli sono stati stressati dalla radioterapia e ovviamente da tutte le medicine le cose che ho dovuto prendere interventi eccetera eccetera e quindi mi ha detto guarda no io in coscienza non ti posso fare questa cosa devo dire che ho apprezzato la cosa e quindi le ho detto ok qual è l'alternativa dice l'alternativa è o andare piano piano a schiarire magari con delle mesh un pochino su nocciola dico no io non voglio questo perché se continuo a fare la tinta non riuscirò mai ad ottenere quello che voglio e quindi lei mi ha detto guarda l'unica cosa è aspettare un po' di mesi che la tua ricrescita naturale sia lunga a sufficienza per poter poi andare a fare un taglio più corto e in quel momento lì quando non ci sarà più tanto da diciamo da decolorare posso andare a lavorare però sulla tua base quindi sarà molto meno invasiva la cosa ragazzi che dire mi sono fatta coraggio perché è la prima volta nella mia vita che vado in giro in queste condizioni però alla fine ho detto oh ma sai che c'è tra l'altro mi è stato pure detto da una fanciulla che è nel colors group dice robbie ma guarda che è di tendenza in america fare questa transizione quindi ci sono dice adesso è il mood di questo momento sta in queste condizioni dico bel mood mood delle morte de sonno va bene comunque ecco solo per dirvi che se mi vedete se mi vedrete nei prossimi mesi in queste condizioni pietose è semplicemente perché sono in un momento di transizione quindi alla fine ragazzi io devo stare bene con me stessa sto faticando un pochino a vedermi così però ho detto vabbè raga da qualche parte chi bella vuole apparire un poco deve soffrire ho detto vabbè fossero tutti questi problemi del mondo e quindi mi sto facendo questa violenza perché la tentazione di ricoprire tutto è forte ma io ho un obiettivo da raggiungere voi lo sapete che quando voglio raggiungere gli obiettivi non mi ferma nessuno quindi abbiate pietà di me vi prego vi prego o voi che arriverete dal nulla sotto questo video non cominciate con che schifo e stavi meglio prima stavi meglio dopo e chi te lo fa fare e sembri vecchia lo so raga so tutto mi vedo non sono scecata mi vedo però questo momento in questo momento la situazione è questa quindi se vi dà fastidio vedermi così chiudete il video e arrivederci detto questo allora che cosa è successo piccola parentesi di questi capelli ora sono serena e che è successo ragazzi è successo che abbiamo dovuto traslocare e lasciare la nostra casa quella che avete sempre visto negli sfondi dei miei video che dire ragazzi allora è stato un trasloco decisamente non voluto siamo stati costretti a traslocare e anche in diciamo fretta non entrerò nel dettaglio della cosa semplicemente vi dirò che era da circa è da circa quasi vent'anni sì che noi allora noi viviamo abbiamo vissuto nella casa quella che avete sempre visto nei video da quando ci siamo da quasi un anno dopo esserci sposati in quella che era la casa dei miei suoceri e che essendo una casa molto grande i miei suoceri hanno lasciato a noi ora ma la casa era comunque di proprietà dei miei suoceri non entrerò nel dettaglio delle cose vi dico solamente che per problemi legati alla famiglia di renato del maritozzo praticamente questa casa è andata all'asta ragazzi la vita è anche questo esistono queste realtà e in tutto questo io e il maritozzo siamo stati delle vittime sacrificali si può dire ma alla fine non è che sia stata non è stato uno sgarbo fatto a noi ci sono stati dei problemi appunto legati a vicissitudini della famiglia dei genitori insomma di mio marito che hanno fatto sì che questa casa andasse all'asta la casa era di proprietà dei miei suoceri intendiamoci la casa non era una casa in affitto ma era una casa non trovo pace ragazzi perché si parla di argomenti abbastanza delicati e quindi vi basti sapere che noi sapevamo già da tempo che questa casa sarebbe finita all'asta in tutti questi anni la storia di questa casa era legata anche al lavoro di mio marito per cui in una botta sola insomma abbiamo perso il mio marito ha perso il lavoro e ha perso anche la casa o meglio i miei suoceri hanno perso la casa e di fatto l'abbiamo persa anche noi quindi siamo riusciti a tirare avanti la situazione per parecchi anni ovviamente mettendo un avvocato insomma abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderci questa casa ma ragazzi non è stato possibile non è stato possibile anche qui non entrerò ovviamente nel dettaglio fatto sta insomma ragazzi che sta casa alla fine di tutto questo di tutti questi anni nei quali abbiamo lottato per cercare di riuscire a riprenderci la casa alla fine abbiamo dovuto mollare mollare e l'abbiamo dovuto fare ragazzi con un grandissimo grandissimo dolore immenso dolore se pensate quella è la casa nella quale sono nati i miei figli ci sono state le feste i compleanni i natali la crescita dei miei bimbi che ormai sono grandi ci sono stati tanti eventi la comunione le comunioni dei ragazzi battesimi c'è la nostra vita ci sono stati concentrati in quella casa contenuti 25 anni 24 anni della nostra vita e quindi e quindi la casa è andata all'asta è andata all'asta e nel giro di 90 giorni ok abbiamo dovuto trovare un'altra sistemazione ora detto così sì è una cosa brutta per carità trovi un'altra casa e te ne vai e amen alla fine è una casa ragazzi non è stato così semplice è stato un vissuto di questi anni molto complicato è una grandissima è stata una grandissima fonte di disaccordo tra me e maritozzo sono stati anni molto complicati molto duri sono stati anni che hanno messo a dura prova ma veramente a dura prova il nostro matrimonio la nostra vita di coppia io dico sempre a maritozzo la storia di questa casa ci ha praticamente quasi disintegrato il matrimonio e l'abbiamo superata l'abbiamo superata unendo le forze trovando forza l'uno nell'altra e mi sono dovuta rimboccare le maniche in tantissime occasioni perché il maritozzo io ho un maritozzo che è troppo 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 buono ecco e non aggiungo altro e quando si è troppo buoni poi purtroppo le persone troppo buone spesso vengono prevaricate vengono come dire vengono manipolate ecco diciamo così non voglio essere cattiva ma sappiate che questa esperienza mi ha molto 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 e dico molto molto fortificata voi pensate che nello scorso anno durante lo scorso anno quando mi è capitato quello che mi è capitato noi eravamo in pieno marasma anche per la situazione della casa quindi io ho dovuto a un certo momento tirare giù la serranda la sala cinesca e dire ok adesso devo pensare a me e così ho fatto ma una volta poi finito tutto diciamo il momento quello clou della mia situazione di salute ho dovuto riprendere in mano tutto perché il maritozzo è andato proprio giù 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 ma di brutto ragazzi per cui come sempre wonder colors la robbie ha dovuto insomma rimette mettersi un pochino tirarsi su rimboccarsi le maniche come dire e prendere un po in mano la parte emotiva e decisionale della della situazione quindi stringendo abbiamo dovuto trovare un'altra casa ora noi sapevamo da aprile che la casa era stata assegnata all'asta ok e quindi non voglio nemmeno dirvi che cosa è stato a livello emotivo passare questo periodo io non so se ci sarà qualcuno all'ascolto voi direte ma perché questa sta dicendo tutti i cavolacci suoi o comunque una parte perché questo per me è un mezzo di condivisione condivisione di cose belle condivisione di cose meno belle condivisione di vita vera e molto spesso anche quando ho condiviso i miei problemi di salute il mio per i miei percorsi no le i momenti anche non proprio sereni della mia vita sono stata contenta poi di averlo fatto perché non è mai semplice parlare e mettersi al nudo e sono stata contenta perché poi mi è stato mi sono arrivati dei commenti nei quali mi si diceva ti ringrazio anch'io stavo nella stessa situazione grazie per la forza grazie per il supporto che bello cioè mi hai dato il coraggio di fare questo mi hai dato e quindi io penso che la condivisione anche di una cosa così brutta così tosta posta magari essere d'aiuto a qualcuno che magari capiterà apri da questo video capiterà da queste parti e dirà cavolo allora però vedi ce la si può fare io dico sempre che solo alla morte non c'è rimedio e lo adesso lo posso veramente dire con cognizione di causa e vi dico è stato è stata tosta è stata tosta perché nel corso di questi anni quando c'è un iter di messa all'asta di un immobile c'è tutta la parte diciamo amministrativa burocratica come la vogliamo chiamare di una marea di persone che ti entrano in casa che ti vengono a prendere le misure della tua casa vabbè insomma questi sono dettagli che magari ecco mi risparmio e poi quando poi la casa è andata all'asta c'è stato il passeggio delle persone che venivano a vedere questa casa ragazzi io non auguro nemmeno al mio peggior nemico di passare quello che abbiamo passato noi è una cosa terrificante a livello emotivo è veramente destabilizzante vi dico che quando sapevo che c'erano queste visite che ovviamente concordavamo con l'avvocato del tribunale che aveva preso la nostra situazione in mano e siamo stati anche fortunati perché c'è capitata una un avvocato donna bravissimo che ci ha visti in faccia ha capito la nostra situazione quindi ha capito che eravamo persone per bene e che eravamo vittime di una situazione che non dipendeva da noi e quindi è stata sempre molto discreta molto veramente molto umana e non è scontata questa cosa e non vi nascondo insomma che io il più delle volte cioè me ne sono andata andavo via quando sapevo che dovevano venire queste persone io me ne andavo perché raga sono riuscita a contenere tutto ma l'invasione della privacy della mia casa anche no comunque comunque la casa è stata assegnata e quindi abbiamo avuto questi 90 giorni di tempo ora immaginate che cosa significhi cosa significa che cosa significhi boh vabbè significhi facciamo così manco con i verbi stasera c'è in brocco che cosa significhi traslocare e chiudere in degli scatoloni quasi 25 anni di vita è stato una cosa terribile vi dico solo che noi abbiamo cominciato a fare scatoloni dalla metà di aprile abbiamo fatto in tutto credo se ricordo bene o 95 o 97 scatoloni in quegli scatoloni c'era chiusa tutta la nostra vita o buona parte e mamma mia ragazzi se ci ripenso mi sento male non auguro a nessuno di fare un trasloco in fretta e furia come abbiamo dovuto farlo noi ma il problema grande quale è stato trovare la casa trovare una nuova casa che non è così sconta cioè non è così facile ragazzi non è non è stato facile perché perché avevamo due bimbe veloce e avevamo due bimbe veloce ora ne abbiamo solo una e poi ecco in tutto questo c'è stata anche questa parentesi devastante spero di non piange ragazzi me lo sono riproposta insomma ho detto robbi guai a te se versi una lacrima ci proverò e non è stato facile perché perché ci sono capitate diverse case tra l'altro noi cercavamo delle case possibilmente al pian terreno con un magari un fazzolettino di anche un balcone no sapete quelle case dei condomini che sono al pian terreno che hanno un po di spazio fuori proprio per le bimbe veloce perché la lunetta era incontinente per cui avevo il terrore che potesse rovinare i pavimenti insomma avevamo una situazione abbastanza complicata alla parola bimbe veloce due cani defezione totale quindi no 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 non accettiamo cani ah no 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 i cani no i cani no insomma abbiamo perso tre case ragazzi è stato un periodo devastante non si riusciva a trovare una casa i giorni passavano le settimane passavano e noi avevamo come da ultima data diciamo per lasciare la nostra casa il 22 agosto la data era quella dovete sapere per chi non lo sapesse che quando il tribunale dà una data di uscita quindi dall'appartamento dall'immobile da quel che sia insomma una villa una casa quel che sia non ci sono proroghe questo significa che in quel giorno lì cioè passato quel giorno lì vengono i carabinieri cioè vengono le forze dell'ordine vengono e mettono i sigilli alla casa e non ti permette e tutto quello che tu hai dentro non è più tuo ragazzi è una cosa terrificante questa terrificante e noi abbiamo rischiato grosso nel senso non si riusciva a trovare questa casa stavamo impazzendo i giorni le settimane come vi dicevo correvano alla fine abbiamo parlato con mio padre e abbiamo detto papà ci ho detto papà ma come si fa se non vi preoccupate in qualche modo vi arrangerete venite a stare qui da noi i miei hanno una casa su due livelli molto grande ma io dico sempre una casa grossa e fregnona nel senso che è un open space dove peraltro è tornato a vivere mio fratello da circa da più di un anno ormai perché si è lasciato con la compagna dopo circa 14 anni di convivenza e quindi sarebbe stata più che altro una comune cioè saremo stati dunque quattro sette persone e tre cani non vi dico che cosa sarebbe stato ma in qualche modo avremmo dovuto sbrogliarcela almeno momentaneamente cioè lasciare la vecchia casa trasferirci dai miei e poi con calma ovviamente cercare una una casa un'altra casa per noi non saremo comunque potuti rimanere lì e vi dico che con mia mamma nelle condizioni in cui è insomma sarebbe stata veramente 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 complicata viviana che quest'anno ha la maturità quindi quinto anno deve stare tranquilla rilassata a studiare mia mamma con le sue problematiche a livello mentale insomma non è un soggetto facile c'ha le sue giornate no insomma sarebbe stato devastante una mattina ero al lavoro un sabato mattina tra l'altro giornata nella quale io non lavoro qui si parla della fine di luglio credo sì eravamo intorno al 20 luglio vi dico solo mancava sì circa un mese alla data di scadenza insomma quella nella quale avremmo dovuto abbandonare la casa e mi chiama mio zio uno dei due fratelli di mia mamma io ero al lavoro e mi fa robbie ma stai cercando ancora la casa mamma mi ha raccontato tutto è dico sì zio guarda siamo disperati e mi ha detto senti dice io mi sa che te l'ho trovata dice ci sarebbe una casa singola una casetta indipendente a due passi da casa tua ma dove dice guarda in linea d'aria stai a 100 metri da casa tua dico oddio guarda fammi finire di lavorare io sto qua e io sto qua col proprietario perché mio zio lo conosceva questo proprietario e mi ha detto guarda io sto qua e se riesci a venire almeno la vieni a vedere la fermi se ti piace sapete quando io ho chiesto tanto all'universo tanto all'universo di trovare una casa anche piccolina ma che potesse accoglierci con le nostre bimbe pelose e niente sono venuta a vedere la casa e me ne sono subito innamorata e ho detto questa è la casa che va bene per noi sembrava proprio che questa casa stesse aspettando noi maritozzo lavorava quindi dico al proprietario di casa guarda guardi all'epoca gli davo del lei dico senta io mio marito lavora però vorrei che la vedesse anche lui e lui mi ha detto guarda io lavoro tutta la settimana però se vuoi la prossima settimana il prossimo sabato venite a vederla se vi piace insomma ve la do volentieri perché non la voleva più riaffittare perché i precedenti inquilini gliel'avevano praticamente distrutta sta casa infatti era qui quel sabato quando mio zio è passato perché stava facendo dei lavori di ristrutturazione stava pitturando insomma ha dovuto fare dei lavori di muratura in cucina perché questi inquilini gli hanno fatto veramente dei danni grossi e lui non la voleva più affittare questa era la casa nella quale lui viveva con la sua famiglia e e poi essendo morti insomma lui è solo non è sposato e vabbè insomma morale della favola lui se ne è andato a vivere con una sorella per cui questa casa l'aveva chiusa però per non farla andare in rovina la affittava ma non voleva più saperne quando poi mi ha vista insomma e sapeva che ero la nipote di mio zio che conosceva bene mi ha detto guarda come ti ho vista scendere dalla macchina ho visto subito che tipo di persona tu fossi e per cui poi conosco bene tuo zio dice per cui io casa te la do volentieri e insomma vabbè morale della favola siamo venuti col maritozzo la settimana dopo e abbiamo deciso di prenderla quindi ragazzi nel giro di lui doveva finire di farci dei lavori dentro quindi vi dico solo che nel giro di tre settimane dico tre settimane sono mi sono fatta dare le chiavi di questa casa che nel frattempo me la sono tutta pulita a fondo come dicevo io lui infatti si è scusato perché mi ha detto guarda abbiamo dato una pulita dice però qui ci sono da fare dei lavori importanti di pulizia dico senti non ti preoccupare nel frattempo ci siamo dati poi del tu ho detto guarda non ti preoccupare me la pulisco io e quindi non stai sereno stai tranquillo non mi interessa che la casa non sia perfettamente a posto a livello di pulizia non mi interessa anche perché me la so tanto l'avrei pulita comunque e quindi insieme alla vivianozza mi ha aiutata a fare alcune cose e vi dico solo che mi ci sono voluti sei giorni pieni dalla mattina la sera per sgrossare questa casa ho trovato i nuovi mostri io non so le persone vabbè non siamo tutti fissati con le pulizie ok siamo d'accordo ma tra il non essere fissato e l'essere degli sozzoni c'è un abisso no comunque raga sei giorni pieni olio di gomito vi dico solo che ho consumato quattro bottiglie dico quattro di ammoniaca pensate che abbiamo dovuto smontare la cappa cambiare il filtro e tutto con mio papà e mio marito re maritozzo mi ha portato dal lavoro un pochino di un prodotto specifico che utilizzano loro nella cucina dell'albergo dove li lavora per togliere il grasso con l'ostinato perché non se ne andava nemmeno con l'ammoniaca voi non potete immaginare il grasso che ho potuto togliere da questa cucina comunque sei giorni di sgrosso dopodiché abbiamo iniziato a svuotare dall'altra casa gli armadi perché sì avevamo fatto tutti gli scatoloni ma avevamo le cose da portare quindi tutte le cose i piatti per tutti i giorni avevamo lasciato delle cose che utilizzavamo per tutti i giorni e poi avevamo da smontare tutti i mobili la casa nella quale ci troviamo adesso è una casa ammobiliata quindi tranne alcune cose ecco tipo il divano abbiamo portato il letto della mia camera da letto l'armadio che avevo in camera da letto i comodini che altro abbiamo portato il letto quello che aveva il riccardozzo quello di Ikea quello in con la scaletta abbiamo portato l'armadietto del bagno insomma alcune cose la lavatrice ma lui mi aveva detto che c'era anche la lavatrice nuova ma io avevo la mia figuriamoci se non lavo la mia LG e quindi vabbè insomma la casa è ammobiliata quindi oltre al nostro trasloco da quella casa a questa abbiamo dovuto trovare anche una sistemazione per i nostri mobili perché dove li mettevamo questi mobili quindi non vi dico comunque siamo riusciti poi a sistemare questi mobili grazie ad un amico di mio fratello che ha un grosso magazzino ce li ha fatti appoggiare lì ma ragazzi vi dico che per me è stato devastante il giorno nel quale abbiamo smontato la cucina chi mi conosce chi mi segue sa che quella cucina era una cucina fatta su misura studiata nei minimi dettagli e della quale io ero sono stata e sono tuttora follemente innamorata era la mia isola felice quello era il pezzo della parte della casa che era me la sentivo proprio mia quindi oltre a dovermi distaccare emotivamente dalla casa dai ricordi e da tutto cosa che avevo già fatto vi dico ragazzi che il giorno che è stata smontata la cucina io sono stata malissimo malissimo è stata una giornata devastante quanto ho pianto ragazzi quante lacrime ho potuto versare è stato un misto di emozioni lo so che sono oggetti lo so che sono cose che ci sono cose più importanti degli oggetti io lo so razionalmente lo so ma la parte emotiva la sfera emotiva legata a quella cucina io lì ci ho preparato tante di quelle cose per i miei figli tante cose ragazzi comunque quella è stata una giornata tremenda che è successo mentre facevamo tutto questo e quindi c'era questo stravolgimento emotivo e anche fisico perché poi è stata una faticata una faticaccia con quel caldo allucinante noi in pieno agosto a fare il trasloco le nostre ferie le mie ferie soprattutto il mese di ferie che mi sono presa come faccio tutti gli anni l'ho trascorso pulendo e traslocando non mi sono riposata un giorno ma non si poteva fare altrimenti e quindi oltre a questa alla parte proprio pratica ragazzi belli abbiamo perso la nostra lunetta ecco la voce che mi si strangola abbiamo perso la nostra lunetta la lunetta credo che non abbia retto quello sconvolgimento che c'è stato per forza di cose inevitabile dello smontaggio dei mobili della barahonda di gente dentro casa gli animali non sono animali sono cioè nel senso gli animali sono sensibili tanto quanto gli esseri umani lei era vecchietta chi mi seguite lo sapete era diventata cardiopatica da circa un anno e mezzo una grave cardiopatia tenuta sotto controllo da una pasticca da una compressa e vi dico solo questa cosa ragazzi la lunetta noi siamo ci siamo trasferiti in questa casa a dormire per la prima volta il 21 di agosto no o sì sto facendo dunque il 21 di agosto sì il 21 di agosto il 21 sì sì scusate il 21 di agosto a poi ovviamente io ho chiesto all'avvocato di poter avere una proroga di una settimana cioè di arrivare almeno fino al 31 di agosto perché ragazzi non ce l'avremmo mai fatta a svuotare tutti i mobili a svuotare proprio la casa per quella data e lei devo dire che è stata carina ci è venuta incontro ha visto insomma che noi stavamo facendo quello che dovevamo fare per andarcene e quindi abbiamo avuto questa proroga fino al 31 di agosto la sera del 21 di agosto è stata la prima sera in cui noi ci siamo siamo venuti a dormire in questa casa ragazzi la lunetta ci ha lasciato ci ha lasciati nella notte tra il 20 e il 21 di agosto quindi l'ultima notte nella quale noi abbiamo dormito a casa è stato devastante ha avuto un infarto alle due di notte era già dalla mattina che non stava proprio benissimo e ha avuto un infarto alle due di notte e non abbiamo potuto fare nulla è stato un infarto fulminante e non entrerò anche qui nel dettaglio di quello che è stato perderla perché è stata una cosa tosta non devo piangere robbi porca paletta è stata una cosa devastante e io l'ho accompagnata mi sono lei era nella sua brandina io mi sono l'ho avvolta con le mie braccia l'ho accompagnata mi sono appoggiata con la testa sulla sua pancia diciamo e l'ho accompagnata fino al suo ultimo respiro e lei è stata lì con me le ho sussurrato delle paroline la carezzavo dolcemente le ho sussurrato delle paroline nelle orecchie fino a che ha esalato l'ultimo respiro la mia lunetta la mia lunetta dorata e ero legatissima a questo a questa bimba pelosa e ora ne parlo con un pochino più di serenità nel cuore anche se se poi se mi metto a ripensare a come a quello che è successo con la notte insomma non vi dico maritozzo devastato la vivianozza devastata riccardo non era con noi perché era fuori per le sue vacanze in quei giorni e aveva programmato già da tanto tempo una settimana fuori in vacanza con la ragazza e avrebbe perso i soldi ho detto guarda non ti preoccupare perché ci hai aiutato a fare il grosso del trasloco e poi è ritornato in tempo per poter poi smontare i mobili insomma e finire di fare le cose ma quella notte lì per fortuna lui non c'era perché lui non è molto forte per queste cose e ragazzi e ci ha lasciati ci ha lasciati e l'abbiamo seppellita nel terreno di mio papà ovviamente siamo andati dal veterinario abbiamo cancellato il microchip e scusate ci è stato detto dal veterinario che se avevamo un pezzo di terreno privato avremmo potuto seppellirla lì e quindi l'abbiamo seppellita lì vicino ai due coniglietti nani che aveva mio fratello e all'altro cane dei miei genitori non quello che hanno adesso ma quello il nostro cialino è precedente a questo e quindi in tutto questo marasma ragazzi abbiamo anche perso la nostra lunetta che dire ora siamo in questa casa dal 21 dal 22 sì dal 21 agosto e l'altra casa è chiuso abbiamo chiuso il capitolo ci stiamo riprendendo questa casa ci piace tantissimo è una casetta piccola molto più piccola rispetto a quella che avevamo prima abbiamo un solo bagno e due sole camere da letto quindi il motivo di questo nuovo divano è che abbiamo preso questo divano da Ikea e un divano letto perché Riccardozzo dorme sul divano letto gli abbiamo preso un materasso più alto di quelli di Ikea proprio sono strutturati per chi compra i loro divani e insomma ci siamo sistemati tutti è una casa più piccola però ha questo piccolo spazietto esterno pavimentato non grandissimo ma sufficiente per la zaretta noi temevamo fortemente per la zaretta una volta che Luna non ci fosse più stata perché lei era legata proprio in maniera simbiotica vivevano in simbiosi soprattutto lei nei confronti della lunetta e per fortuna avendo questa casa uno spazio all'aperto quindi lei comunque è più distratta e più è impegnata ecco devo dire che si è ripresa alla grande e anche lei ha risentito moltissimo del trasloco ma qui ha trovato un po' la sua isola felice siamo tutti mi dovete scusare se sono un po' curva con le spalle sarei dovuta essere un pochino più dritta ma sono un po' stanca e tendo a curvarmi quindi perdonatemi pura gobba nient'altro la disfatta della Colors e siamo sereni finalmente in questa casetta siamo sereni me la sono tirata su non è sicuramente la casa dei nostri sogni ovviamente ma è una casa molto accoglietta abbiamo anche il camino il termo camino per meglio dire quindi ci riscalderemo con il camino in questa casa e siamo siamo contenti siamo contenti si è chiuso ecco un capitolo molto 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 difficile della nostra vita familiare e bisogna sempre guardare avanti perché tanto a guardare indietro ci si fa solo del male si vede che doveva andare così ora appunto siamo qui in affitto staremo qui in affitto per un po' di anni e poi quando un domani non ci saranno più i miei suoceri nell'appartamento dove sono loro che è nostro dove stanno vivendo loro insomma che però è nostro io lo voglio vendere lo venderemo e compreremo un'altra casa perché qui si è sempre in divenire cioè qua invece di trovare la pace a 53 anni qua invece no noi siamo come i giovani perché noi ci vogliamo sentire giovani e quindi siamo ancora tutti è tutto ancora da fare ecco siamo ancora in trasformazione in transizione a cominciare dai capelli e poi tutto il resto ragazzi belli io sono strafelice di essere tornata spero di riuscire a trovare la quadra giusta per girare i video perché ecco l'unica pecca di questa casetta è che manca un po' di privacy quindi devo rinternarmi nella camera da letto perché abbiamo una zona al giorno c'è una cucina e un salone che sono tutt'uno sono divisi da un arco ma in realtà non ci sono porte che separano la cucina dal salone, dalla sala da pranzo, salone e soggiorno e quindi l'unica stanza nella quale io posso girare un po' più tranquillamente è la camera da letto e girerò i video insomma sono contenta di aver rotto il ghiaccio Zara basta anche un pochetto grazie la casa è molto trafficata è molto è più piccola quindi siamo tutti qua e spesso ho avuto anche l'occasione di poter ricominciare a girare video ma poi non mi è stato possibile perché c'era sempre qualche incursione in campo comunque raga questo era il video di rottura no nel senso che vi rompo spero di non rompervi le scatole, di non avervi rotto le scatole la Colors è tornata siamo tornati, vediamo un po' e nulla io come sempre ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questo video e grazie a chi è rimasto sul canale insomma a chi è rimasto iscritto al canale anche se sono stata latitante per parecchi mesi ma come sempre quando mi assento c'è sempre una motivazione perché ho sempre detto che fino a quando mi divertirò e mi rilasserò a girare video sapete che per me è anche un po' terapeutico girare video infatti mi è mancato tantissimo e fino a che mi divertirò, mi rilasserò e mi farà piacere farlo io starò qui spero, spero in vostra compagnia detto questo io appunto ringrazio tutti coloro e tutte coloro che fossero rimasti fino alla fine di questo video vi mando il mio bacio super stra mega galattico non vedevo l'ora di poterlo rifare vi rimando alla visione dei prossimi video sempre e solo se e qualora vorrete grazie De Fior grazie mille mi raccomando fate i bravi fate i bravi mi raccomando e soprattutto non smettete mai di volervi bene e se non l'avete fatto fino adesso iniziate, iniziate a volervi bene vi lovo tutti